buongiorno buongiorno abbiamo lasciato con le montanelle e ora stiamo dirigendo verso questa campanella passeremo per il verano, trabolla, termine che c'è scritto a te che alcanelli fa estremamente le buoni cavolo ma attenzione la scena questa è la parte più bella e panoramica che è tratta del vero qui abbiamo ancora i misericordiali che stanno salendo a dormire comunque è una spazia bellissima bella 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 ma ne vale la prima buongiorno qua ancora vino i vivi ci sono ancora stasera risotto agli due boccini e risotto ai gamberetti è una passiera la pastiera e concluderemo la nostra la nostra l'esperienza della via alta dei Monti Lattari il tempo ci ha graziato fortunatamente un po' di pescura è molto esposto oggi sono ancora maniche lunghe ma tra poco siamo a sbagliare anche questa a più tardi stiamo un attimo rinfrescando in questo posto magnitico parla di seriale proprio giovanni insieme vuole andare qui e dai giù parla di questa comunità parla di un po' 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 parla di un po' Grazie a tutti. 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 Che spettacolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.